Musica Ben trovati dal TG6 L'Aquila, apriamo il telegiornale parlando di lavoro perché i lavoratori del concorsone del comune dell'Aquila si costituiscono in comitato. Si tratta di 128 dipendenti assunti a tempo determinato con il cosiddetto concorsone promosso dopo il sisma del 2009 all'Aquila. Questi danno vita oggi ad un comitato per garantire servizi al cittadino, soprattutto per tutelare i posti di lavoro. Sentiamo. Tutelare i diritti e la posizione dei lavoratori a tempo indeterminato con queste finalità si è appena costituito il comitato dei dipendenti Ripam del comune dell'Aquila. Si tratta di lavoratori, per la precisione sono 128, assunti con il concorsone indetto dopo il sisma del 2009 a fronte della gran mole di lavoro determinata dai processi di ricostruzione. I lavoratori che hanno deciso di costituirsi in comitato lavorano nell'ambito della ricostruzione, dicevamo, e a quasi tre anni dalla loro assunzione, scrivono, ancora si vedono privati della dovuta attenzione da parte del comune dell'Aquila per quel che riguarda la programmazione del personale. La stessa dovrebbe essere in grado di superare e risolvere le riserve di incertezze relative da una parte alla situazione professionale ed umana di ben 128 lavoratori, dall'altra alla tenuta dell'organizzazione amministrativa dell'ente e quindi alla garanzia dei servizi alla cittadinanza e del funzionamento della città. Ciò spiegano perché nel 2021 è prevista la cessazione dei finanziamenti statali a copertura delle suddette posizioni lavorative, prospettandosi così in assenza di un'attenta organizzazione delle risorse umane e finanziarie del comune da programmare e da avviare fin da ora il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi erogati e il rallentamento soprattutto dei processi che riguardano la ricostruzione. L'attività di questo comitato neocostituito allora si colloca nell'ambito delle varie questioni risolte della legge Barca ed è pertanto opportuno che venga collocata, scrivono, all'interno dell'attuale riflessione degli organi politici e della società civile relativa all'esigenza di individuare soluzioni concrete e fattive inerenti alla ricostruzione della città dell'Aquila. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata questa mattina alle 10.11 dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L'epicentro è stato registrato tra i comuni di Capitignano, Pizzoli e Barete nell'Aquilano ad una profondità di 11 chilometri. Fortunatamente non si registrano danni a cose e persone. La cronaca, due donne rumene di 45 anni e 25 anni sono state arrestate dai carabinieri delle stazioni di Tornimparte e Sassa. Queste nella tarda serata sono state bloccate all'uscita dell'ipermercato Conad del centro commerciale L'Aquilone dopo aver rubato 12 bottiglie di whisky per un valore approssimativo di circa 300 euro. Le donne sono state condotte presso gli uffici di Via De Beato Cesidio e ricostruite alla vicenda sono state arrestate dai carabinieri. Dopo le formalità di rito sono state poi sottoposte agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria. Lo scorso 15 gennaio i militari del nucleo operativo radiomobile per gli stessi motivi avevano arrestato un'altra donna rumena di 30 anni residente a Pescara bloccata all'uscita del supermercato Conad del centro Amiternum dopo aver rubato 5 bottiglie di whisky per un valore approssimativo di 100 euro. Il responsabile dell'esercizio commerciale aveva denunciato l'ammanco di altre bottiglie riscontrato i giorni precedenti. I militari dopo aver visionato le registrazioni delle telecamere e aver fatto tutte le verifiche del caso arrestarono la trentenne. I carabinieri della stazione di Pizzoli invece hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 41 anni residente in un paese vicino Pizzoli. L'uomo avrebbe rubato generi alimentari invece nel supermercato MD del centro commerciale Il Cermone. Sul conto dell'uomo sono stati raccolti elementi di colpevolezza riscontrati da dichiarazioni di testimoni e anche immagini della videosorveglianza dell'esercizio commerciale che è stato derubato. La refurtiva è stata poi restituita ai proprietari. E ora parliamo di una ricerca dell'asla dell'Aquila. Nel post-sisma meno suicidi ma più abuso di alcol e cannabis. È l'analisi dei dati che è stata svolta come dicevamo dall'asla dell'Aquila nei due anni successivi al terremoto del 2009. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. All'Aquila nei due anni successivi al sisma del 6 aprile 2009 si sono verificati meno suicidi e più nascite e si è registrato un abuso di alcol con particolare riferimento alle donne che hanno aumentato l'uso nel doppio rispetto agli uomini. Ci sarebbe stata rispetto al periodo precedente al terremoto una impennata nell'uso di cannabis e tabacco tra i giovani. La foto della situazione emerge da una lunga e complessa ricerca condotta nel bienio successivo al sisma dal servizio Psichiaria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila diretto da Alessandro Rossi. Quelli relativi a nascite, suicidi, uso di droghe leggere e alcol non sono gli unici dati interessanti emersi. Ci sarebbero stati infatti miglioramenti nell'immediato delle funzioni motorie dei malati di Parkinson forse generate da una fuga da situazioni pericolose e anche le persone affette da disturbi psichici sarebbero state meno colpite perché l'emergenza post-sisma ha fatto venire meno la loro condizione di diversi sul piano sociale. E diverse sono anche le spiegazioni. L'aumento delle nascite, per esempio, si spiegherebbe parzialmente con quello che gli autori dello studio chiamano capitale sociale. In parole semplici, un fenomeno di solidarietà collettiva tutti aiutano tutti, innescato dal terremoto. L'atto della procreazione in questo contesto avrebbe inoltre avuto la valenza di un'autoguarigione dopo un'esperienza devastante. È anche verosimile un cambiamento delle priorità e dei valori di fronte ad un elemento che ha messo in serio pericolo la vita. Il numero dei suicidi, nei due anni successivi al sisma, è stato inferiore rispetto al periodo antecedente dell'evento dell'Urico. Non è del resto la prima volta, osservano gli studiosi, che ciò si verifica durante gli eventi catastrofici e guerre. Anche la riduzione dei suicidi potrebbe in parte spiegarsi col descritto fenomeno della solidarietà reciproca di massa che si mette in moto dopo eventi devastanti. Il disturbo post-traumatico da stress ha avuto le maggiori ripercussioni sulla popolazione considerata impropriamente normale, oltre il 37%, rispetto a quella che aveva già problemi psichici. La ragione? I soggetti con malattie psichiche sarebbero stati più protetti dal sistema di cure in atto e probabilmente da un venir meno in una situazione di emergenza della loro condizione di emarginati e diversi sul piano sociale. Più vulnerabili le persone con oltre 50 anni, tendenzialmente più il gentil sesso. Nelle donne adulte si è registrato un abuso di alcol in misura doppia rispetto alla popolazione maschile. Per quanto riguarda i giovani, in un campione di 1.078 soggetti di età tra i 16 e i 30 anni, di cui il 40% già con sonferenza mentale, è stato rilevato un abuso di alcol, cannabis e tabacco. E ora apriamo l'ampia pagina sportiva parlando dell'Aquila Calcio. Tre punti davvero d'oro a Ponte d'Era. Un successo importante per gli uomini di Mister Perrone che sono riusciti a sconfiggere il Ponte d'Era per 2 a 1, decisiva e le reti di Ceccarelli sul rigore poi di San Domenico. Stefano Scappini invece per il Ponte d'Era ha accorciato le distanze. Un'ottima prestazione anche dei nuovi arrivati. Su tutti il difensore ex Pescare Emanuele Pesoli che ha sfoderato davvero una prestazione di altra categoria. Il servizio è di Andrea Costantini. L'Aquila espugna il Manucci di Ponte d'Era con un gol per tempo e torna a gioire lontano dalle fattorie dove la vittoria mancava dalla seconda giornata quando i Rosso-Blu si imposero di misura sempre in terra toscana ad Arezzo. Partita ricca di spunti e di occasioni ma che alla fine ha sorriso agli uomini di Carlo Perrone. Il tecnico aquilano fa debuttare Emanuele Pesoli nel trio difensivo completato da Cosentini e Piva. 3-4-3 con Ceccarelli e San Domenico ai fianchi del centroavanti Perna. L'allenatore di casa indiani gioca la carta Bazzoffia al fianco del capocannoniere Scappini. Il Ponte d'Era si fa preferire come possesso di palla nei primi minuti ma l'Aquila colpisce al tredicesimo sfruttando un errore del portiere toscano Cardelli che si fa sfuggire le traversioni di Ligorio e per rimediare atterra Ceccarelli che si era avventato sul pallone. Calcio di rigore che lo stesso Ceccarelli trasforma spiazzando Cardelli. San Domenico calcia sull'esterno della rete poco dopo mentre prima della mezz'ora viene giustamente annullata per offside una rete ai padroni di casa sulla torre di Scappini, Bazzoffia e al di là della linea difensiva aquilana. Inutile la finalizzazione. San Domenico va a nozze negli spazi concessi dal Ponte d'Era ubriaca gemignani ma sul più bello calcia alto. I rosso-blu tengono bene il campo, Benzaia prova da fuori, alto. Brivido nel secondo e ultimo minuto di recupero la sventola di Scappini centra in pieno la traversa e l'Aquila tira un sospiro di sollievo andando in vantaggio all'intervallo. Nella ripresa già all'ottavo con una bella azione in ripartenza l'Aquila timbra il raddoppio, Benzaia per San Domenico che sfida da solo l'intera retroguardia locale e incrocia il destro in maniera perfetta. Bel gol del furetto partenopeo segnato con l'Aquila in dieci uomini perché Perna colpito da una pallonata era al momento a bordo campo. Il Ponte d'Era non ci sta e reagisce con un colpo di testa di Vettori sventato da Scotti. Sarà però un errato rinvio proprio del portiere aquilano a regalare una ghiotta chance al Ponte d'Era. Chance che il cannoniere Scappini non spreca grazie ad un destro a giro magistrale. Il match winner dell'andata riapre la partita. Scotti che poi ringrazia la buona sorte poco dopo sulla sassata di Cabasci, palo interno e palla che schizza fuori. Il finale è scoppiettante col Ponte d'Era che tende il tutto per tutto e l'Aquila che agisce di rimessa. Fa esordio Bulevardi tra i rosso-blu, Perna prima e Benzaia poi sfiorano il palo alla destra di Cardelli. Poi ancora proteste Granata, Vettori spinge Triarico e quando Della Latta infile il 2-2 l'arbitro ha già fischiato il fallo. Poi Scotti è provvidenziale su una sventola dalla distanza. In pieno recupero San Domenico smarca Manuel Mancini che spreca davanti alla porta. Poco male, l'Aquila esulta e si prende i tre punti. Ora le attenzioni sono tutte per la sentenza del processo Dirti Socchio. Dalla Lega Pro scendiamo in Serie D. La Miternina dà tre schiaffi al Giulianova. Un netto successo 3-0, una partita importantissima per la Miternina che vuole conquistare la salvezza. Germana Dorazio. Festa grande per la Miternina, mentre è notte fonda per il Giulianova che a fine gara viene tenuta al rapporto dai suoi tifosi che si lamentano della sconfitta. I ragazzi di Mister Angelone vincono 3-0 con pieno merito contro i giallorossi adriatici che tirano alla porta avversaria una sola volta. Probabilmente il cambio di allenatore da Giorgini a Gelsi ha solo peggiorato la situazione. Per la cronaca, subito pericolosi i padroni di casa al sesto. Petrone serve in area terriaca che da buona posizione tira alto. Dopo sei minuti la Miternina tiene un calcio di rigore visto che Ferrante spinge in area torbidone. Sul dischetto si presenta lo stesso torbidone che inzacca. La reazione del Giulianova non c'è e sono ancora i locali a rendersi pericolosi. Al diciannovesimo uscita a vuoto di Proietti. La palla è preda di Giordano che mette in mezzo per Terriaca ma è bravo il difensore sbaraglia a evitare il tiro dell'attaccante. Il raddoppio della Miternina arriva al trentasettesimo. Azione creata da Terriaca e Gizzi con il difensore che insacca l'incolpevole Proietti. Nella ripresa al secondo Proietti deve intervenire per parare il colpo di testa di Torbidone. Dopo cinque minuti Di Paolo fa la barba alla traversa da trenta metri. Al tredicesimo l'unico tiro in porta del Giulianova con Pellecchia. Al ventottesimo Terriaca con un pallonetto prova a eludere l'uscita di Proietti ma la palla va fuori. Al trentaquattresimo arriva la terza rete dei padroni di casa. Terriaca mette mezzo per Torbidone che di piatto realizza la sua doppietta. Nel finale al quarantesimo la Miternina tutta sbilanciata in avanti subisce una ripartenza del Giulianova con Pantarotto costretto al fallo e viene poi espulso. Visto che la Miternina ha già effettuato le tre sostituzioni in porta Vallennart senza correre pericoli però fino al fischio finale. Era uno sconto di retti importante. Giocavamo in casa e ci eravamo proprio riproposti in settimana di dare il massimo per ottenere i tre punti. E così è stato. Abbiamo avuto dei problemi in settimana, degli acciacchi, delle influenze, squalificati. Anche oggi un paio di ragazzi hanno giocato con l'impiltrazione quindi non eravamo neanche al meglio. Invece poi sul campo si sono visti proprio 11 giocatori che hanno dato l'anima come sempre con la massima attenzione, con la massima determinazione. Volevano a tutti i costi vincere questa partita e penso che l'hanno pinta verità da mente perché oltre ai tre gol abbiamo creato tantissime altre palle gol. Bella partita della Miternina. Invece Giocavanova come è riapparso? Io non guardo in casa ad altri. Quello che rimarco è ancora la grande prestazione dei miei ragazzi che oggi hanno concesso quasi niente al Giocavanova e hanno creato tantissimo. Poi il Giocavanova sono cose di spogliatoio che deve valutare al nato di loro. Se io parlo della mia squadra. Quindi oggi avete fatto un bel passo in avanti verso l'obiettivo pre-auto? Certo, abbiamo fatto un'importante vittoria come ho detto poc'anzi però dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ci attendono altri sconti diretti da fare in casa dove dovremmo ripetere queste ultime prestazioni che abbiamo fatte sia oggi che col Madelica due domeniche fa. Se giochiamo con questa intensità, con questa attenzione se riusciamo a essere sempre vivi e nell'arco dei 90 minuti sicuramente porteremo a casa delle buone prestazioni e degli ottimi risultati. E ora dal calcio al rugby. Sconfitte per le formazioni abruzzese impegnate nei vari campionati di rugby. In eccellenza sfuma infatti nel finale il sogno della prima vittoria stagionale con il Sandonè per l'Aquila. Rugby Club. Giorgio Alessandri. Giornata nera per il rugby aquilano che si appresta come nel resto d'Italia ad affrontare una lunga sosta per l'imminente inizio del torneo delle nazioni. In eccellenza per l'Aquila sfuma nel finale la prima vittoria stagionale. Al fattore il Sandonè passa 28 a 25 grazie alla meta messa a segno proprio al minuto 80 quando tutti speravano che i neroverdi potessero bagnare con la vittoria la miglior partita della stagione. Partono forti i ragazzi di Mercier e Cutitta che vanno in meta dopo pochi minuti con Boccardo anche se la prima metà della gara si chiude con i veneti avanti per 13 a 12. Nella ripresa i neroverdi buttano il cuore oltre l'ostacolo e riescono ad agguantare il vantaggio che ha illuso tutti grazie alla meta messa a segno da Borean. Tutto sembra filare per il meglio con il Sandonè che peraltro ha giocato gli ultimi minuti in inferiorità numerica. L'illusione svanisce quando il neontrato di Valentino a pochi secondi dalla fine mette a segno la meta che fissa il risultato finale gelando giocatore e pubblico. Andiamo un po' più nel tecnico c'è stata un'ottima difesa arrembante su tutte le tusce per evitare le molle che tanto ci hanno fatto soffrire durante il corso del campionato. Sì, sì, questo che come dicevo prima stiamo lavorando su questo perché prendevamo sempre meta di drive e adesso stiamo risolvendo questo problema e adesso dobbiamo risolvere un altro problema adesso dobbiamo risolvere soprattutto il problema della difesa perché l'uno contro uno si fa ammazzare oggi la partita si sbagliamo ancora troppo placaggi i ragazzi lo sanno ma noi stiamo volando e penso che siamo sulla buona strada per andare a salvarsi alla fine dell'anno. In Serie A nel secondo match della pool promozione la Granziasso Regmi nel match casalingo di Villa Sant'Angelo è stata sconfitta dalla Pro Recco per 36 a 21 al termine di un match vibrante e in cui non sono mancate le polemiche soprattutto per alcune decisioni arbitrali che hanno condizionato il match nel girone di promozione in Serie B il Paganica torna sconfitto da quel di Benevento con i campani che si impongono 36 a 21 sempre in Serie B infine sconfitta anche per l'Avezzano contro i cadetti della Capitolina che vincono 21 a 10 nel match valido per la pool e la salvezza. Si terrà il 2 febbraio alle 17.30 presso la sala conferenza del Gran Sasso Science Institute il primo appuntamento di Prospettive Rose il progetto promosso dagli assessorati alla cultura pari opportunità e politiche sociali del Comune dell'Aquila per ripercorrere la storia collettiva di donne che hanno lasciato un segno all'Aquila si parte con le lavoratrici dell'Italtel l'incontro dal titolo le donne la fabbrica il territorio nell'esperienza Italtel sarà dedicato alle lavoratrici della storica fabbrica Aquilana e a Marisa Bellisario che la diresse la giornata prevede la proiezione di un video donne al lavoro saranno letti poi alcuni brani estratti da due libri carte di lavoro a cura di Riccardo Lolli e poi l'Aquila il polo elettronico ritroscena di una crisi di Monica Pellicione seguirà un dibattito moderato dalla giornalista Rai Maria Rosaria Lamorgia con questa notizia termina il nostro TG6 L'Aquila io vi ringrazio per la vostra cortesia attenzione e vi invito a rimanere su TV6 per la consueta programmazione arrivederci per la vostra cortesia